Il centro di immunoncologia di cui il direttore è il professor Michele Maio nasce nel 2017 per volere dell'azienda ospedaliera universitaria senese. È un'entità altamente integrata formata da quattro unità strutturali focalizzato alla ricerca dell'immunoterapia del cancro. La possibilità di essere insediati in una struttura come TLS ci dà ovviamente la possibilità di collaborare con gruppi con diverse expertise e quindi di poter sfruttare le capacità di altri ricercatori e ovviamente tutti gli strumenti che TLS mette a disposizione per poter implementare le conoscenze che noi abbiamo sulle strategie che possiamo utilizzare per sviluppare nuovi approcci immunoterapeutici per la ricerca contro il cancro.